Occhio alle crepe. Non è l'ennesimo monito lanciato sui social dal sapientone di turno, ma a dirlo è lo stesso Riccardo Morandi, l'ingegnere romano che circa 60 anni fa progettò il ponte Bisantis di Catanzaro e, sempre nello stesso periodo, quello di Genova, venuto giù il 14 agosto. In una relazione che scrisse nel 1979, il progettista già allora metteva in guardia dall'usura del tempo, dai mutati flussi di traffico e dalla corrosione degli agenti atmosferici che lentamente pregiudicano la tenuta del calcestruzzo utilizzato per costruire i suoi ponti, avvertendo di tenere sott'occhio in particolare le crepe che finiscono per esporre l'armatura di metallo. Parole che oggi, alla luce di quanto avvenuto a Genova e al prezzo altissimo pagato in vite umane, assumono un significato che va oltre le semplici considerazioni ingegneristiche. Se la struttura mostra aperture di crepe che superano il massimo valore accettato nel progetto, scriveva Morandi 40 anni fa, possono essere causa di danni alla conservazione dell'armatura. Ed è ciò che sembra stia accadendo al ponte di Catanzaro. L'ANAS rassicura che il viadotto è sottoposto a un monitoraggio costante e mette sul tavolo 3 milioni e 400 mila euro che nei prossimi mesi serviranno per interventi di conservazione. Intanto, però, le immagini girate con un drone da alcuni attivisti di Forza Italia colpiscono e preoccupano migliaia di calabresi che ogni giorno attraversano quel ponte tra i più alti d'Europa a Campata Unica, nella speranza che, delle rassicurazioni, stavolta ci sia davvero da fidarsi. Enrico De Girolamo per la CNews 24 Il giorno dopo, l'incidente è occorso a due fratelli colpiti da un fulmine sulla spiaggia di Paola e il maltempo continua a flagellare la costa tirvenica a Cosentina. Nello stesso punto in cui si è consumato l'incidente, sul litorale sud della città del Santo, al confine con il comune di San Lucido, lampi e tuoni continuano a scandire il passare delle ove. Protagonisti dell'insolita vicenda due fratelli molto conosciuti in zona, l'ex primario di radiologia dell'ospedale San Francesco, Franco De Rosi, 66 anni, e l'avvocato trapiantato a San Donato milanese, Piero De Rosi, di 57 anni. Ad avere la peggio è stato il medico, la scavica elettrica lo ha investito, facendogli perdere conoscenze. Il tempestivo intervento dell'elisoccorso gli ha salvato la vita, trasportato all'ospedale di La Mezzia Terme fuori pericolo. Mentre eravamo al centro della spiaggia abbiamo sentito dei tuoni e all'improvviso abbiamo sentito questo grosso boato e io mi sono trovato per terra e mio fratello anche dall'altra parte lì ho capito che eravamo stati colpiti da un fulmine. Io avevo le gambe paralizzate, però lo chiamavo e ho pensato per qualche istante che fosse morto. Poi cosa è successo? È riuscito ad allertare i soccorsi? Sì, poi i bagnanti, lo stesso guardiano delle barche ci hanno soccorso, poi è arrivato il 118, non so come ha fatto perché è stato velocissimo e poi mio fratello è stato trasportato con l'elisoccorso alla Mezzia Terme. Ricordo appunto che mio fratello era per terra, io ho cercato di alzarmi ma non ce la facevo e lo chiamavo. Lì ho pensato al peggio. Intanto il tempo continua a fare i capricci. Un violento acquazzone si è abbattuto sul litorale con precipitazioni particolarmente intense nell'abitato di Amantea, allagati alcuni scantinati. L'instabilità proseguiva anche nei prossimi giorni in questo scorcio di fine agosto con buona pace dei vacanzieri. Salvatore Bruno per la Cineus 24. 65 metri di spiagge erosi dal mare in poco più di mezzo secolo. Erano gli anni 60 quando al ridosso della costa di Calopezzati, lungo il medio alto litorale ionico, iniziava a fiorire l'area residenziale dove centinaia di villeggianti stabili, soprattutto provenienti dalle aree interne del Cosentino, trascorrevano le loro lunghe ferie. Ma oggi quella bella e ampia spiaggia incontaminata e sabbiosa ricca di arbusti che un tempo divideva il mare dalle case non esiste più e le onde rischiano di inghiottire quanto è rimasto in piedi, mentre quei pochi coraggiosi che ancora resistono tornano a chiedere un intervento urgente e risolutivo alle istituzioni comunali e regionali. Diciamo che si sono persi tutti questi metri di spiaggia e nello stesso tempo tutti gli anni si sono persi senza fare nulla. Poi voglio dire, il fatto che manchi la spiaggia non solo qui ma su tutto il litorale calopezzatese, salvo alla piazzetta dove ce n'è un po' di più, è ovvio che questo depaupera sia chi ha sui turisti la fonte di maggior reddito sia chi ovviamente, come è il caso di Specie, viene qui a Calopezzate per passare l'estate e non può farsi il bagno perché non ha dove mettere l'ombrellone. Le istanze sono state fatte anche ufficiali per cercare di insistere un po' sull'attività che è praticamente assente delle amministrazioni che si sono succedute. Sembra che la cosa non esista, invece è all'occhio di tutti che esiste come. L'unico intervento è stato fatto apponendo queste massi di arenaria a metà anni Ottanta, dopodiché totalmente il vuoto, il nulla. Come se, ribadisco quello che dicevo prima, nulla fosse successo e nulla sta succedendo. Se noi parliamo di costi per quanto riguarda la manutenzione sta diventando un po' pesante, ma io vorrei ribadire il concetto che noi siamo comunque stanchi e arrabbiati per questa situazione che non si riesce a risolvere anche se si può dire che è così semplice, basta poco. Marco Lefosse per la CNews24 Catanzaro è tutto un caos. Le polemiche non vanno mai in vacanza e a Catanzaro nel periodo ferragostano viaggiano sui social. Qui è montato un polverone mediatico dopo l'avvio degli interventi di ripitturazione delle strisce blu. Le colate di vernice che hanno invasso il centro storico approfittando dello svuotamento estivo della città sono state immediatamente ribattezzate come anomale. Sicuramente se hanno fatto qualcosa di strano prenderanno provvedimenti. Sicuramente non è un buon colpo d'occhio. Strisce blu ai piedi discalinate, accessi pedonali, strisce blu dinnanzi ai passi carrabbili disegnati in maniera estrosa e creativa. Bisognerebbe mettere le persone giuste ai posti giusti. Il colpo basso è stato assestato in un periodo di assenza del primo cittadino, lontano dalla città per godere di qualche giorno di ferie, nemmeno luogo di villeggiatura, Sergio Abramo ha tuonato contro i vertici di AMC municipalizzata comunale incaricata di realizzare i lavori. Sergio non sapeva niente. Adesso sembra che sappia qualcosa. Infatti ha chiamato le persone per poste a vedere che cosa è successo. Però di solito il cittadino paga sempre e poi si sa dopo. Succede come le cose in famiglia, che il papà è sempre quello che... Per ultimo le cose. Il sindaco ha infatti sollecitato immediate verifiche richiedendo sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che nel periodo estivo si sono abbandonati alle attività creative. L'AMC ha provveduto a installare circa 1500 stalli, quindi che ci sia qualche errore è possibile, è umano. Comunque sono dei lavori ancora provvisori che devono essere completati, che l'AMC ha affrontato pure nel periodo di ferragosto, si è lavorato anche prima e subito dopo ferragosto per, come dire, togliere alcuni inconvenienti. Lavori che devono essere, e questo vorrei sottolineare, completati. Ancora non sono stati collaudati. Luana Costa per la Cinius 24. A parte il controllo preliminare col precursore, poi facciamo suonare proprio, facciamo soffiare proprio. Tutti negativi. I veri successi sono questi. Giovani sobri alla guida, niente più sbronze e incidenti stradali sensibilmente ridotti. Vite salvate. L'incontro con i giornalisti per tracciare il bilancio dell'attività straordinaria di controllo del territorio svolta dalla compagnia di Vibo Valencia consente al comandante Piermarco Boretaz e al responsabile dell'aliquota radiomobile Francesco Panei di fornire un dato finalmente confortante per un territorio che ha versato tanto sangue sull'asfalto. La stretta sulla prevenzione ha funzionato. Spesso i giovani sono migliori di quel che si crede. Sono arrivato a Vibo quattro anni fa facevamo otto, dieci, dodici, centottantasei al mese. Ora se li facciamo tutto l'anno. Un trend confermato nel periodo più critico un'alta stagione nel corso della quale i carabinieri della compagnia di Vibo Valencia hanno lavorato per rendere sempre più sicure le arterie a beneficio di residenti e turisti. Abbiamo elevato contravenzioni abbiamo fatto anche diciamo del decurtato punti e anche sequestrato dei veicoli però quello che ci ha interessato di più è stato proprio intensificare i controlli per permettere ai turisti di poter usufruire della strada in maniera corretta. Tra le attività messe in campo anche quelle a tutela dei consumatori grazie al supporto del NAS e sui luoghi di lavoro dove trasversalmente nei vari comparti produttivi malgrado le pesanti sanzioni previste le pratiche di lavoro irregolari adottate dagli imprenditori sono dure a morire come hanno documentato i militari del NIL. Davivo Valencia per la Cineus 24 Io sono Don Franco il rettore del santuario diocesano Madonna della Grotta di cui oggi 15 agosto ricorre la festa patronale della città di Preammare si ricorda infatti che tra il 14 e il 15 agosto del 1326 arrivò dal mare questa immagine della Madonna la nave si arenò tra l'isoladino e la costa a un certo punto per salvarla il capitano vide queste grotte da lontano e la portò lì la poggiò su un grande masso piano e da lì è nata la storia diciamo di questo luogo di culto evviva Maria il desiderio e la volontà è quella di combiere anche la processione per mare che è attesa è un momento molto suggestivo molto carico di attesa perché la Madonna che è venuta dal mare ritorna sul mare per benedire il mare e con il mare chiaramente tutti quelli che lavorano per fortuna c'è il calciomercato per fortuna ci sono le trattative le ultime le più calde a rendere particolarmente eccitanti questi giorni di fine agosto in attesa che il pallone torni a rotolare sui campi di serie C avrebbe dovuto rifarlo già dalla prossima domenica e invece non accadrà prima del 2 settembre intanto il primo assaggio di calcio si è avuto con le sfide di Coppa Italia e test amichevoli che hanno sciolto gli ultimi dubbi ed evidenziato alcune problemi di organico da qui la necessità dei club negli ultimi giorni di trattative di rimpinguare all'occorrenza rafforzare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici sarà un campionato più equilibrato molto più agguerrito tra centro e bassa classifica nessuno quindi può permettersi di sbagliare e se Rennes ha proseguito con la sua filosofia giovane ma adeguato scommettendo ancora sugli under ai calciatori dal talento cristallino ma ancora tutto da mostrare discorso diverso per Catanzaro e Regina il club giallorosso guidato da Oteri e piazzato nelle ultime ore dei colpi importanti per la categoria su tutti l'attaccante da serie A Canutè che nella passata stagione ha iniziato con il Benevento l'Olimpo del calcio italiano per poi proseguire la sua avventura alla Provercelli in B ben venti poi i movimenti in entrata in riva allo stretto ma è come quest'anno approdo per giocatori di categoria l'ultimo in ordine di tempo risponde al nome al cognome di Salvatore Sandomenico esterno d'attacco ex Juve Stabia e con una grande esperienza in serie C cerca un top di serie anche la Vibonese che deve coprire almeno tre tasselli il più importante in attacco dove sarebbe tornato di moda l'ex Andrea Saraniti in gol 14 volte nella passata stagione tra Francavilla e Lecce Alessio Buompasso per la Cinus24 mi taglio i capelli se faccio di nuovo gli stessi gol i sette gol che ho fatto all'oscursione mi taglio i capelli a fine anno se non fosse che Gigi Silvestri tenesse di più i suoi capelli che la sua stessa vita la promessa che avete appena sentito non sarebbe poi così clamorosa e invece il difensore regole ad orda la Vibonese della sua folta chioma è gelosissimo ed averla messa sulla bilancia è davvero qualcosa che fa rumore nello spogliatoio rosso-blu la contropartita tuttavia non è poi così male raserebbe la sua lunga e curata capigliatura per lo stesso numero di gol realizzati lo scorso anno in D trasportati in C speriamo comunque di farne di più dentro casa perché lo scorso anno spesso e volentieri l'ho fatto pure in casa pure nella post-cudetto me lo pongo come obiettivo ma non obiettivo primario l'obiettivo primario è fare bene in campo e con la squadra a fine stagione tireremo le somme intanto c'è da partire con il piede giusto e in questo per Silvestri fondamentale sarà l'aiuto dei tifosi è stata la nostra forza l'entusiasmo lo scorso anno poi io questa è la terza annata che faccio con la maglia rosso-blu e come lo scorso anno il primo non l'avevo mai vista tutta quella gente comunque riempire uno stadio in trasferta o dentro casa stessa quindi a noi giocatori questo ci riempie di gioia perché significa che stiamo facendo qualcosa di buono e speriamo che quest'anno sia la stessa cosa comunque la tribuna la vedo sempre piena la curva c'è entusiasmo con gli striscioni è una cosa importante nuovi cori fanno sempre è una cosa che comunque stimola tutti noi alle sue buon passo per la CNews24 visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie la CNews24 edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30 la CNews24 la Calabria che fa notizia che fa notizia a l'anima che fa notizia